Siamo arrivati al rifugio Pascini, punto dove passeremo la notte e l'ultima cosa che dobbiamo controllare, che dobbiamo verificare è di avere abbastanza kit di sopravvivenza perché una delle prime cose che servono in una escursione è sicuramente un kit di sopravvivenza. Io me ne porto dietro sempre uno, sempre uno solitamente abbastanza di marca, in questo caso mi sono portato una Ettinger, una birra che è molto sottovalutata, volevo dire un kit di sopravvivenza molto sottovalutato e adesso lo utilizziamo per affrontare la natura selvaggia. Sento già la sopravvivenza che arriva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti